Buongiorno ai telespettatori di Rossini TV, benvenuti ancora una volta in diretta a Casa Rossini, questo programma che apre in qualche modo lo studio di Rossini TV ai nostri telespettatori appunto con una diretta che prevede anche una interazione da casa, subito i contatti per questa interazione, 351 708 9977 il numero per collegamenti e messaggi whatsapp e eventualmente anche se avete dei piccoli video da mandarci, qualcosa insomma col quale volete interagire con la nostra trasmissione sono tutti i benvenuti e poi saranno naturalmente selezionati dalla nostra segretaria di redazione Allegra, D'Angelo, che è già qua ed è pronta a smistare un po' tutto quello che succede. Casa Rossini, chiocciolarossinitv.it è la nostra mail invece per l'invio di altro materiale o comunque se non avete whatsapp per interagire in ogni caso con noi e con questo apriamo un po' quello che è la nostra diretta. Oggi avremo una puntata molto molto interessante, incentrata principalmente su un tema che come si diceva prima con l'ospite che è già in studio ma che non vi mostriamo, se non ci fosse ovviamente il tema enorme del coronavirus sarebbe sicuramente l'argomento principale di cui si tratta dovunque, il famoso 110%. Ne parliamo dopo però perché come tutte le mattine entriamo nel vivo della giornata ricordando che oggi è il 25 novembre, un giorno che è il 329esimo giorno dell'anno negli anni bisestili come è questo e mancano 36 giorni alla fine dell'anno. Il 25 novembre noi abbiamo un librone che si chiama Personology che riprende giorno per giorno le caratteristiche del giorno stesso e dei nati in quel giorno e che riporta una specie di definizione del giorno e il 25 novembre è indicato da questo libro come il giorno dello sforzo sostenuto. Ora io non è che sappia bene cosa può voler dire questa frase però ve la segnalo. Oggi lo sanno tutti, ne hanno parlato tutti da stamattina ma anche dai giorni scorsi è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, è una giornata che è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1999. C'è come sempre anche un riferimento storico come date. Il 25 novembre del 60 tre attiviste politiche per ordine del dittatore dominicano Raffaele Leonidas Truiglio sono state stuprate torturate e assassinate, le sorelle Patria Minerva e Maria Teresa Mirabal. Naturalmente questo è solo l'aggancio storico alla data, il perché del 25 novembre ma il 25 novembre comunque diventa una giornata simbolo è ovvio che la battuta che tutti fanno è che non bisogna limitarsi a concentrarsi contro la violenza contro le donne solo il 25 novembre, è un tema che dovrebbe essere sviluppato tutto l'anno. Rossini TV comunque se ne occupa questa sera alle 21.30 con un approfondimento di tutti i temi legati a questo argomento difficilissimo, dolorosissimo in riferimento a tutti i servizi dedicati alle donne nella provincia di Pesaro Rubino, non perdetelo alle 21.30 e alle 22.50. La santa del giorno invece è Santa Caterina d'Alessandria Vergine Martire che vediamo in un quadro di Raffaello, un dipinto olio su tavola di Raffaello databile intorno al 1508 e conservato alla National Gallery di Londra. Che cosa è successo il 25 novembre nello sviluppo delle centinaia d'anni? Partiamo da molto vicino questa volta, altre volte ci siamo legati più a eventi storici più antichi. Invece il primo è del 1915, Albert Einstein annota qualcosa sul suo taccuino, questo qualcosa che Einstein annota, noi annoteremmo oggi sono andato lì a comprare e fare la spesa, invece Einstein cosa annota? Annota una formula che racchiude il destino ultimo dell'universo, sono diventate famose come equazioni di campo e sostanzialmente servono per chi capisce cosa c'è scritto lì per definire come, quando e anche se l'universo è destinato a finire oppure è destinato ad andare avanti indefinitamente. Questo è l'appunto di Einstein datato 25 novembre 1915. Nel 52 invece va in scena l'opera teatrale di Agatha Christie, Trappola per topi, debutta l'Ambassador theater di Londra da quel giorno è rimasta in cartellone ininterrottamente fino al 2020, cosa per cui già dagli anni 70 detiene il primato mondiale di spettacolo più rappresentato nello stesso teatro. È stato l'unico esempio di dramma rappresentato ininterrottamente ogni giorno a partire dal debutto. Le rappresentazioni naturalmente sono state interrotte il 16 marzo 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Ci sono delle voci come del resto tutto il mondo del teatro che puntano a fare riaprire, ripartire tutti questi spettacoli storici intorno alla prima metà del 2021. Nel 1976 c'è stata l'ultima esibizione pubblica di un gruppo rock. Io quando vado a esplorare cosa è successo nel tempo ovviamente faccio scelte legate alla musica, allo spettacolo. Ci sono tantissimi temi legati alla guerra, legati a terremoti, a catastrofi varie, però io li salto. Mi focalizzo principalmente sulla musica, sugli spettacoli o su cose che hanno a che fare con la scienza, insomma cose positive. E questa ultima esibizione del gruppo rock che si chiamava The Band, era poi il gruppo di supporto a Bob Dylan, è stata anche immortalata in un film di Martin Scorsese che si è intitolato L'ultimo Valter, un film del 78, ricordo personalissimo, l'ho visto in anteprima a Londra in un teatro, in un cinema vicino a Piccadilly. Nell'80 andiamo nello sport, Sugar Ray Leonard riconquista il titolo mondiale WBC dei Pesi Welter contro Roberto Duran, è una storia infinita quella di Robinson e Duran, questa è una delle riconquiste. Nell'84, e qui siamo ancora nella musica, 36 dei più noti musicisti pop britannici e irlandesi si riuniscono in uno studio a Londra di Notting Hill come Band Aid per registrare la canzone Do They Know It's Christ, ma c'è lo scopo di raccogliere denaro per alleviare la carestia in Etiopia. Tra l'altro questa è la canzone che abbiamo scelto per la dedica, perché ricordate che dopo la pubblicità che arriverà al termine di questa prima frazione c'è una dedica per la quale apriamo la linea a chi vuole può dedicare questa canzone che a questo punto diventa sicuramente la prima canzone natalizia programmata dalle televisioni del mondo, perché siamo in netto anticipo, però diciamo che l'occasione era favorevole. E allora adesso conosciamo il nostro ospite, il primo ospite Paolo Moroni, benvenuto Paolo. Mi raccomando il microfono, oggi è la giornata dei Paolo, visto che ci sono io, c'è Paolo Moroni, poi ci sarà anche Paolo Benedetti, mentre chiuderà Domenico Pascuzzi, sindaco di Gabicce. Paolo Moroni, Estra Prometeo, una attività conosciuta ai telespettatori di Rossini TV perché è molto presente attraverso speciali interviste, approfondimenti, però non diamo niente per scontato, diciamo bene di cosa si tratta. Beh, oggi la mia figura non tratta il discorso di Estra Prometeo in qualità di store per quello che riguarda l'energia e quindi la gestione delle utenze e dell'abitazione, ma oggi apriamo un approfondimento su quello che sono il discorso in questo momento più richiesto che è l'ecobonus dove noi all'interno dei nostri uffici e comunque all'interno delle nostre strutture stiamo attuando e stiamo portando avanti per i clienti che ci richiedono questo genere di servizi. Bene, allora nella formula di questa trasmissione c'è anche un piccolo approfondimento sulle persone che ci vengono a trovare, sugli ospiti e allora qui il compito era facile perché una delle cose è sul nome, solo che qui non ci siamo perché il nome Paolo in realtà viene dal latino, vuol dire piccolo di statura. Allora, io mi sono sempre trovato benissimo con questo nome, è perfetto per me, ma con Paolo adesso è seduto, ma mi supera di tre spanne buone, per cui diciamo che forse quella volta non c'è stato proprio il colpo secco nella scelta del nome. Dal profilo Facebook io ho scoperto due cose, primo che sei un fan di Valentino Rossi. Sì, confermo, è uno di quelli sportivi, allora io ho una cultura sportiva del Bastia, sono un ex giocatore di basket, ma Valentino Rosso è uno di quei personaggi che da subito ho avuto l'imprint e mi ha emozionato, a maggior ragione poi è Pesarese di Tavuglia, mio concittadino, quindi di conseguenza sono molto molto tifoso di Valentino, è un personaggio estremamente positivo. È un'altra cosa che ci accomuna allora oltre il nome. E poi sei stato a X-Factor. Allora, sono stato non io a X-Factor, io sono stato ospite a X-Factor quando a Pesaro ci sono state l'interpretazione, mia figlia essendo una appassionata di questa trasmissione ho avuto la fortuna di accompagnarla, ma comunque sì, è una trasmissione che comunque io seguo. Anch'io, anche questo. Allora qui ci troviamo proprio in sintonia su tante cose. Allora entriamo nel vivo, parliamo di questo 110%, che cos'è? È una formula in qualche modo, è una cifra anche abbastanza curiosa, perché di solito il 100% è il massimo, il 110% è più di quello che è, che ci sta accompagnando e di cui si parla, si parla tanto e purtroppo come sempre quando si parla tanto si rischia di parlare anche un po' a sproposito. E allora noi stiamo cercando, proprio per i nostri telespettatori, di entrare un po' più nel vivo con chi ne conosce, ne sa, proprio per cercare di dirimere situazioni controverse, complicate. La prima domanda è questa. Questo 110% sembra un regalo. La gente è disorientata, non hanno mai avuto regali, anzi, lo Stato non è che sia così prodigo di cose che arrivano senza che uno le chiede, e invece questa volta addirittura la promessa sbandierata dovunque è vi ridiamo il 110% di quello che spendete, anzi, addirittura non lo spendete nemmeno perché voi non vi preoccupate di niente, si preoccupa qualcun altro. Non è un po' facile detta così? Detta così sembra facile ma è una realtà che adesso cerchiamo di andarla un attimino a sviscerare. Questa, come dicevi tu Paolo, è una delle domande che noi abbiamo riscontrato di più nei nostri social, nei nostri blog, anche nei blog di settore. Vediamo che è un argomento che, come dicevamo prima, se non ci fosse il Covid è uno degli argomenti più più discursi perché è di interesse di tutti quanti. E quando capitano questi genere di argomenti le interpretazioni sono le più disparate. E questo non fa altro che portare fuori strada il cliente, disorientarlo e per poi portarlo a una diffidenza, eccetera. Io provo a dare una risposta escludendo tutto quello che sono termini tecnicisti, eccetera, per far capire a chiunque in maniera di base di che cosa stiamo parlando. Partiamo dicendo esattamente qual è l'argomento. L'argomento è la ristrutturazione di base. Perfetto. Allora, una delle domande è che cosa rischiamo, ma come sarebbe? Non ci hanno mai regalato niente, adesso addirittura ci ritornano dietro il 110%. Il cliente che cosa rischia? Non rischia nulla. Allora, di base lo Stato ha emesso questo decreto non per mettere in difficoltà i cittadini. Di conseguenza ci sono delle parti all'interno di questo decreto che possono essere interpretate a dei chiari oscuri, ma andando nello specifico e interpellando quello che sono gli istituti con i quali ci dobbiamo confrontare, le linee guida sono molto chiare. Sono ristruttive, ma sono molto chiare. Quindi il cliente deve solo fare una cosa di base, quello di non correre dietro alla parola gratis, ok? Perché questo ci affascina e ci attira torto. Non è gratis, ma è un'opportunità che dobbiamo cogliere di fronte a questa operazione. Quindi vanno chiariti alcuni passaggi, vanno eseguiti dei progetti preliminari iniziali, dopodiché si può assolutamente partire a fare tutti quelli che sono gli step che riguardano questo genere dell'ecobonus. Ecco, stiamo vedendo quali sono i temi, intervento sugli impianti, isolamento termico e fotovoltaico. Sono i temi ai quali noi possiamo puntare per fare degli interventi migliorativi nelle nostre abitazioni, rispettando però una regola che è il salto di classe, giusto? Assolutamente. Adesso su quello ci arriveremo. Io volevo prima chiudere questo tipo di discorso che è importante iniziare questo percorso affidandosi a professionisti in maniera tale di non trovarsi poi in difficoltà successivamente. Ripeto, ci sono dei lavori che vanno eseguiti tipo lo studio di fattibilità della casa, andare a vedere il certificato energetico. Paolo, mi raccomando il microfono perché non sono abituato. Eh no, ma la gestualità è chiaro che viene spontanea. E quindi andare a vedere tutte queste che sono queste pratiche edilizie da presentare per poi usufruire di questo genere di step. Io faccio sempre un esempio all'inizio di questo tipo di discorso dicendo che noi abbiamo di fronte a noi una serie di semafori rossi. Tutti questi semafori rossi, che non sono pochi di questo decreto, li dobbiamo fare diventare Verdi. Solo dopo che abbiamo effettuato questo passaggio poi possiamo andare a parlare di ecobonus, di 110% e quant'altro. Questo è l'aspetto diciamo importante da parte del cliente per evitare che poi abbia delle sorprese successivamente. Per cui possiamo dire senza tema di essere smentiti che in questo caso no al fai da te. Assolutamente no, no al fai da te e soprattutto no affidandosi a quelle persone che ti dicono stai tranquillo che è tutto a posto, ci pensiamo noi. Avremo molti no. Molti clienti all'inizio avranno dei no, che questo non si può fare, questo non lo puoi ottenere. Questo è fondamentale da dimostrazione della serietà. Io voglio cogliere questa occasione per i clienti e per i cittadini di far capire un aspetto che è un mio pensiero. Io credo che da quando sono in questo settore, sono tanti anni, non ho mai visto un'occasione di questo genere. È un'occasione estremamente importante per rilanciare l'economia in un momento che sappiamo che ci sono tante difficoltà. Da una pandemia c'è un'opportunità di lavoro per tutto e per la prima volta ritengo che i tre interpreti, teatro e attori, Stato, lavoratori e imprese e alla fine i clienti sono tutti nello stesso piano, con un piccolo vantaggio in questo caso da parte del cliente. Il cliente non si deve fare sfuggire, noi cittadini non ci dobbiamo far sfuggire questa occasione perché non credo che possa ripetersi a breve. Si sta parlando di prolungare un periodo, una finestra molto chiusa perché attualmente fino al dicembre del 2021, ma sicuramente si parla già di ampliare. Non facciamoci sfuggire questa opportunità perché è veramente interessante. C'è un campo d'ambito, un terreno di gioco da definire se non altro per far capire a chi ci sta ascoltando in questo momento se fa parte di questa partita o perlomeno se può almeno scendere in campo oppure no? Chi è tagliato fuori? Adesso dico una stupidaggine. Voglio rimettere a posto la moto? Non c'entra niente. Non dico questi estremi perché è chiaro stiamo parlando di abitazione, stiamo parlando di edilizia, però ci sono degli ambiti nei quali l'intervento non arriva? Assolutamente sì. Come tutti noi sappiamo per ottenere questo super bonus, lo annunciavi te, bisogna partire con un miglioramento degli edifici di due classi energetiche del nostro abitazione. Per ottenere questo genere di risultato bisogna effettuare dei lavori che noi chiamiamo trainanti, che sono il cappotto, la coibentazione del tetto e in alcuni casi, e questi vanno valutati volta per volta, tutto quello che riguarda la parte termica dell'appartamento. Una volta che noi abbiamo ottenuto questo genere di risultati, ritorniamo ai semafori verdi, allora esiste una serie di prodotti trainati che noi possiamo andare ad inserire. È quello che dicevamo prima, il fotovoltaico, le pompe di calore, le caldaie a condensazione, non ultimo gli infissi, sono tutti quegli interventi che migliorano la nostra classica energetica e di conseguenza ci danno una possibilità di avere dei risparmi nelle nostre abitazioni. Tutto questo rientra nel 110%. E questo studio, questa valutazione chi lo fa? Beh, ci sono dei professionisti, noi siamo uno delle strutture che si è messo in campo, non appena abbiamo notato che c'era questa opportunità da parte del governo di emanare questo decreto, noi abbiamo studiato, abbiamo riunito il nostro staff, lo abbiamo potenziato per dare questo genere di servizi, noi abbiamo un capo architetto, il Nicole Baroncea che è stato anche vostro ospite, che è il nostro punta d'iceberg, ma abbiamo termotecnici per fare delle valutazioni dalla parte termica, ci sono persone che si adoperano per la scelta dei prodotti che devono essere inseriti all'interno. Non ultimo, uno studio di commercialisti i quali devono presentare le domande, fare tutte le varie asseverazioni per poi ottenere alla fine questo genere di ecobonus. Quindi è uno studio, uno staff che si è preparato e siamo anche noi continuamente nell'evolversi, nello studio, nell'approfondimento perché anche adesso stanno cambiando alcune virgole in questo decreto, noi dobbiamo essere pronti a poter essere efficienti in questo genere di discorso. Vediamo se ho capito. Allora io sono proprietario di una casa, immagino che questa casa possa fare questo salto di classe perché è una casa vecchia che ha bisogno, insomma mi par di capire, qualcuno me l'ha detto, vengo da voi e vi dico fatemi la verifica se è vero che io posso fare questo. Noi facciamo uno studio di fattibilità, se questo studio di fattibilità appunto rientra in quello che sono le linee guide di questo decreto possiamo procedere, il cliente non ha nessun genere di preoccupazione e si trova di fronte a un bivio. Questo cliente si trova di fronte a un bivio. Qualsiasi strada andrà a prendere, la meta a cui lui dovrà arrivare è l'ottenimento di questo bonus. E voglio fare una specifica perché qui tutti parliamo di cessione del credito, no? Che è un aspetto di cui noi parliamo. Ci sarà arrivato fra un attimo perché è quello che ha dato la mossa forte, no? Perché all'inizio tutti dicevano, sì ho capito, ma io quando mai li recupererò tutti quei soldi a livello di scarico di tasse, no? Adesso, ecco, questo è un aspetto, se io non ho questo plafone non posso ottenerlo. Ma parliamo anche di quelle persone che non vogliono usufruire della cessione del credito, no? Sono persone che magari nella vita hanno messo da parte quel gruzzoletto e ci hanno interpellato, vogliono fare questo lavoro e nel progetto iniziale, facciamo un esempio anche in numeri, il progetto iniziale è di 50.000 euro, ok? Quindi io sborso 50.000 euro in tutti gli step, stato avanzamento, eccetera, chiusura dei lavori e poi posso rientrare di questi soldi in 5 anni, non in 10 come è una ristrutturazione normale, in 5 anni, ottenendo il 110%. Quindi va da sé che ho qui già due operazioni. Prima rivaluto da un punto di vista economico la mia abitazione, oltre a migliorarle energeticamente. In più c'è anche un aspetto finanziario, i 50.000 euro se li avessi investiti in un altro genere di investimento sicuro, certamente non mi dà il 10%, sappiamo quelli che sono oggi i tessi di interesse, eccetera. Quindi di conseguenza è anche un aspetto finanziario di vedere questa operazione. Quindi alle persone che hanno uno piccolo gruzzoletto, questo potrebbe anche essere visto in questo termine. Per quanto riguarda invece il discorso dell'altra strada, quella delle persone che magari non sono in grado di sopportare queste cifre, questo progetto iniziale, c'è la possibilità di fare l'accessione del credito. L'accessione del credito, appunto, si cede questo credito a degli istituti bancari, assicurativi, so che adesso ci sono anche le poste italiane che hanno intrapreso. Comunque, degli istituti che sono predisposti e accettano questo genere di operazione e quindi possono cedere totalmente questo credito. Va da sé che un istituto, una banca che ti dà questa opportunità si trattiene una percentuale che più o meno si basi intorno all'8%. Quindi tu chiedi il 110%, ti restituiscono il 102%. Questo 102% comunque nel progetto che noi facciamo inizialmente con i nostri clienti è sufficiente per coprire tutte quelle che sono le operazioni che vanno eseguite, compreso anche l'eventuale interesse bancario, quello che possono essere assicurazioni per i lavori. Quindi il cliente da questo punto di vista, se ha inizialmente ricevuto tutti questi semafori verdi, ha anche questa opportunità. Poi dopo so che avete un incontro con lui. Alcune banche eseguono il sistema a prestito a ponte, altri fanno stati avanzamenti dei lavori. Ci sono varie situazioni dove appunto il cliente può usufruire di questi soldi. Io mi trovo molto sintonizzato con i nostri telespettatori, quelli meno informati, perché io sono pochissimo informato, per cui faccio domande probabilmente molto simili a quelle che loro si stanno facendo in questo momento. La capacità di scaricare, perché poi di questo stiamo parlando, il recupero fiscale vuol dire che io avrei dovuto pagare un tot di tasse, non le pago perché le scarico, in qualche modo le detraggo, insomma non so qual è il gergo tecnico, per questo fatto che ho fatto questa operazione. Però può anche darsi che io non abbia di fronte nella mia vita di contribuente 50.000 euro di tasse da spendere nei prossimi 10 anni. E questo è il primo no. E questo è il primo no. E allora io come faccio? Non puoi accedere al bonus 110%, devi utilizzare quelle che sono oggi le misure in campo, quelle dell'alternazione fiscale in 10 anni, che è il 50% per quello che riguarda la ristrutturazione, in alcuni casi si deve operare nella parte termica il 65% per la caldaia, ad esempio noi in questo aspetto per coloro i quali non possono usufruire di questo aspetto totale, noi facciamo la cessione del credito del 65% per tutto quello che riguarda le caldaie, la condensazione, quindi fatto 100 il costo della caldaia ci danno solo la differenza e il resto è sconto in fattura. Se invece questa caldaia rientrava nei lavori trainanti di cui parlavamo prima, il totale costo era zero. Quindi questa possibilità c'è, non tutti la possiamo ottenere, in parte la possiamo ottenere, quindi vanno valutati casi per casi. Ecco perché dico, stiamo attenti a quello di dire ci penso io, facciamo tutti. No, questo è un bonus importante ma ha tanti paletti, ha tanti semafri rossi che devono diventare verbi. Io ho sentito ovviamente dire anche che ci sono delle imprese, imprese che lavorano fisicamente, operativamente, su queste ristrutturazioni che possono farsi carico, cioè rilevare quello che è il tuo credito fiscale. Confermo, ci sono aziende che questo lo possono fare, sono aziende molto grandi, molto importanti, che devono pagare tante tasse e noi non percorriamo questo genere di strada, anche perché, per quello che è in mia conoscenza, queste aziende sul discorso della percentuale che si trattengono è superiore di un istituto bancario. Quindi sì, ne ho sentito parlare, ci sono, ma non sono strade che noi percorriamo. Questa è una cosa di una nostra scelta. Diciamo, il vostro percorso passa attraverso la pratica bancaria. Pratica bancaria o la gestione finanziaria del cliente. L'esempio che facevo prima, dei 50 mila euro, quindi se il cliente vuole fare, noi lo seguiamo in tutto, perché ci sono computimetrici, preventivi, sicurezza sul cantiere, sono tanti aspetti che come struttura noi facciamo. In definitiva il cliente, una volta che si è seduto al tavolo e ha scelto quelle che sono le operazioni che deve fare, non è altro che spettatore di tutto quanto, perché il tecnico insieme allo staff deve asseverare tutti i passaggi, cercare tutti i prodotti, seguire le aziende. In realtà è che tutto deve essere alla perfezione. Tutta questa operazione avrà dei costi aggiuntivi su tutto quello che è, magari, l'attivazione della procedura. I costi a cui va incontro il potenziale cliente, quali sono? No, non ci sono costi. E questo è uno di quegli aspetti che il cliente e noi rimaniamo stupiti, come tutto questo lavoro. Allora, ritorno a quello che dicevo prima, è tutto presentato nel progetto iniziale. Nel progetto iniziale dei x mila euro, 50, 180 che sono, sono compresi tutti i passaggi, i costi del professionista, i costi della manodopera, dei muratori, dei prodotti, tutto quanto è previsto. Ci sono cosiddetti anche dei limiti massimi, definite nel decreto dei limiti massimi. Cosa significa? Significa che noi abbiamo comunque un tetto massimo a cui possiamo aspirare, che sono 96 mila euro. Quindi è una cifra molto importante, no? Sempre che lo possiamo fare da un punto di vista fiscale. Poi ci sono questi limiti massimi. Faccio degli esempi per capire meglio. Se io devo effettuare un lavoro di un cappotto, quindi termico, o un tetto massimo di 50 mila euro, una cifra molto importante, difficilmente io vado a autorizzare tutto questo plafond per il cappotto, ma sono tanti. Stesso discorso per le pompe di calore, la parte termica, riscaldamento, eccetera. 30 mila euro. Altra cifra molto importante che io posso usufruire di questo limite massimo. Posso fare l'esempio di un fotovoltaico che va intorno ai 2.400, 2.500 euro per kilowatt. Si possono aggiungere 1.000 euro nel caso in cui uno scegliesse l'accumulatore. Ci sono dei costi al metro lineare per gli infissi. Noi dobbiamo far sì che nel progetto iniziale stiamo all'interno di questi limiti massimi. Quindi facendo questo non ci sono costi in più. Poi ci possono essere costi in più quando? Quando io intraprendo questo intervento, mi può capitare, visto che ho un cantiere aperto, di fare una pitturare oppure, non so, cambiare il bagno perché ce l'ho magari un po' datato. Questi non sono lavori che possiamo inserire nel decreto 110%. Quindi non sono lavori che posso avere gratis. Sono lavori che poi rientrano nella detrazione fiscale, di conseguenza posso averne una detrazione del 50%, ma in questo caso in 10 anni e non più in 5 anni. Spesso e volentieri per dei piccoli lavori, ci è capitato a noi in un paio di occasioni, che un cliente per dare 5.000-6.000 euro per questi lavori in più fa cadere un vantaggio da 50.000-60.000 euro. Qui ritorniamo un po' alla testardagine anche delle persone che ci spingono a volere richieste che non si possono ottenere. Siamo con Paolo Moroni, il tempo vola perché abbiamo ormai raggiunto, anzi abbiamo anche superato il tempo a nostra disposizione, ma l'argomento è complesso e meritava comunque questo approfondimento. Noi ci auguriamo intanto di aver dato una prima infarinatura, torneremo però su questo tema, perché è un tema importante che raggiunge proprio la tasca di ognuno di quelli che è a casa. Abbiamo capito un paio di cose, la prima è che il primo calcolo va fatto su quella che è la nostra capacità contributiva per avere la possibilità poi di recuperarla e anche sulla possibilità che la casa, che la nostra abitazione ha, di fare il salto di classe, altrimenti non ci siamo. Quando abbiamo mosso e capito questi due primi step, che possono essere anche verificati direttamente parlandone con voi, a quel punto si può avviare una procedura che sicuramente, almeno per questi pochi minuti nei quali siamo stati insieme, ma ci conosciamo anche per altre interviste e per altre cose, ci pare di capire che voi facciate nella maniera più professionale possibile e con la miglior garanzia di risultato. Dico una cosa Paolo, noi in questo momento addirittura stiamo allestendo in uno dei nostri store la possibilità di ricevere il cliente per poter avere un salotto di discussione e chiarire tutti quelli che sono gli aspetti. Sono tante le domande, ad esempio noi per scelta, oggi abbiamo parlato di ecobonus, ma bisognerebbe parlare anche di sismabonus, noi ad esempio questo aspetto non lo tocchiamo perché ci vogliono delle competenze che noi non abbiamo e quindi di conseguenza non ci vogliamo intromettere in questa operazione. Ci sono delle difficoltà oggettive che sono i condomini che vanno anche questi approfonditi, estremamente difficoltosi. Delle volte ci sono dei casi che padre e figlio non si mettono d'accordo su abitazioni bifamiliari, immaginiamo cosa significa andare a lavorare su un condominio di 10, 20 e 50 persone. Quindi anche questo, molte richieste ci vengono, io sono in un condominio, posso usufruire e purtroppo noi non lo facciamo. Quindi noi mettiamo a disposizione tutte le nostre capacità, mettiamo a disposizione tutto il nostro servizio, se ci vengono a chiedere informazioni siamo totalmente disponibili. Dove devono venire a chiedere informazioni? Diamo i contatti? Noi siamo presso a Pesolo in Viale Marsala numero 20, presso l'ufficio Store di Pesolo o a Vallefoglia in Viale Roma. Stiamo vedendo i contatti? Siamo presenti, questi sono i nostri contatti, spesso questi contatti potete utilizzarli, ma abbiamo anche la nostra pagina Facebook, siamo presenti, quindi rispondiamo nell'arco delle 24 ore a tutte le richieste che in questo momento sono veramente, veramente tante. All'inizio quando ci contattiamo con te, ma anche con tutti gli altri ospiti, la domanda è di cosa parliamo? Molto tempo, poco tempo, poi ci si accorge che insomma veramente il tempo non basterebbe mai. Ci sarebbero tante altre cose che mi erano contato. Però ho notato anche una cosa, perché sai un po' da vanesio e anche un po' per controllare cosa succede alla trasmissione, mi riguardo alle volte e mi accorgo che quando siamo qui in studio sembra di non esserci detti quasi nulla, poi invece riguardando si capisce che di argomenti ne sono stati trattati tanti, per cui presumiamo che anche a casa siano riusciti comunque già ad avere una prima infarinatura abbastanza concreta di quello che è questo tema, sul quale sicuramente torneremo. Intanto ringraziamo Paolo Moroni e S. Prometeo, ci vedremo in una prossima occasione, andiamo in pubblicità. C'era una dedica, credo, al volo, ho visto Allegra che si agitava, perché dopo la pubblicità vedremo quella canzone di cui abbiamo parlato prima, che appunto era dell'84, per cui oggi compie 36 anni. Buon mercoledì mattina a tutti, mi chiamo Sara, volevo augurare buon compleanno a nonna Eva, giusto perché il nostro pubblico è anche di nonni e nonne, per i suoi 84 anni. Mi vedi, è un po' più anziana della canzone. Complimenti a nonna Eva, nonna Eva ti dedico alla canzone per il periodo festivo preferito, visto che siamo i primi a far ascoltare una canzone natalizia, grazie Casa Rossini, vi seguiamo sempre. Grazie a voi che ci state seguendo, adesso andiamo in pubblicità, canzone e poi torniamo con Paolo Benedetti di Banca Pesaro. Bentornati in studio, bentornati a Casa Rossini, abbiamo sicuramente raggiunto questo record di essere i primi in assoluto a mandare una canzone di Natale, ma l'occasione era buona perché questa è una canzone che oggi compie 36 anni, è stata incisa, presentata il 25 novembre del 1984. Siamo, come già preannunciato, in studio con Paolo Benedetti, direttore di Banca Pesaro e continuiamo in qualche modo a parlare di argomenti importanti che sono legati a tutta la situazione economica delle famiglie e delle imprese. Ma prima qualcuno ricorderà che Paolo Benedetti è stato con la sua banca a fianco a uno dei nostri maggiori successi, lo dico con molto vanto personale, della scorsa stagione televisiva. Quel Master Fish che stavamo preparando e aspettando di lanciare anche per questo 2020, ma che opportunamente è stato posizionato all'inizio dell'anno. E devo dire a Paolo, nel presentarlo e nel ringraziarlo, appunto che parte del merito è anche sua, perché è stato lui a segnalarci un dettaglio al quale noi nell'euforia della preparazione insieme a Confesercenti non avevamo forse pensato, cioè che il momento fosse poco adatto anche se si poteva provare, però il momento fosse poco adatto a ostentare un discorso legato ai ristoranti in un momento in cui vivevano un momento così difficile. Poi tra l'altro c'è andata anche bene, no Paolo? C'è andata bene perché poi i ristoranti hanno chiuso, sono stati chiusi e di conseguenza è andata bene e la trasmissione comunque è pronta a partire non appena le condizioni lo consentiranno, anche perché l'impegno è talmente grosso che vale la pena valorizzarlo al massimo con un bel risultato. Ma non siamo qui per parlare di questo, o perlomeno non solo, anche perché anche in questo la banca aveva questo ruolo di affiancamento alle attività del territorio. Giusto che questo è un po' il ruolo principale di una banca locale, importante come Banca Pesaro? Sì, buongiorno a tutti, intanto grazie per l'invito, che è sempre un gran piacere vengo alla trasmissione di TV Rossini e soprattutto quando incontro Paolo che è una miniera di idee interessanti, non sono mai banali. Masterfish, 30 secondi, la banca conferma sicuramente il suo impegno, come ti avevo già detto e confermato, perché è sempre un evento con gli arti, ma è un evento molto importante perché coinvolge una parte importante del settore economico del nostro territorio. Per quanto riguarda la banca, grazie per dire che siamo una bella banca, perché lo siamo veramente, una banca che sta crescendo in termini di volume, ma soprattutto sta crescendo in visibilità e anche negli interventi che stiamo facendo verso il territorio, perché tra tutti gli aspetti negativi che c'è questa pandemia purtroppo ha colpito, ha fatto venire fuori anche degli aspetti positivi, dove vengono fuori veramente la parte anche umana di un istituto di crete, di un'azienda, come lo è una banca. Strano queste parole, sentisele dire, ma sono veramente contento in cui come abbiamo reagito e abbiamo supportato il tessuto imprenditoriale, ma anche le famiglie. Vi assicuro che ci sono tante famiglie che in questo momento si trovano in difficoltà, ma non hanno mai perso il buon spirito di essere veramente pesaresi, cittadini della città, che sono veramente molto molto tosti, come se mi passi questo termine. Come tutte le realtà economiche e come tutte le persone del mondo a questo punto siamo stati tutti travolti nella fine di febbraio scorso dall'arrivo di questa pandemia. Le banche sono state travolte da richieste di ogni genere. In particolare, andando per slogan, c'è stato questo famoso mutuo dei 25 mila euro, che naturalmente, chiariamo bene, sono 25 mila euro massimo a fronte di un fatturato dell'anno precedente, l'ho imparato bene nella lezione sulla mia figura, dell'anno precedente che doveva essere almeno 100 mila euro, perché l'importo copre un 25%. È finito tutto o c'è ancora tempo per accedere? Ancora tempo c'è, anche se diciamo che il decreto dovrebbe scadere il 31 dicembre, ma molto probabilmente verrà prorogato, poi vediamo con i decreti legge quanto sarà stanziato o no per questa nuova forma di finanziamento. Non ti nascudo, adesso la cifra è stata portata a 30 mila euro, da 25 l'ha portata a 30, hanno allungato un po' la durata, ma diciamo che nella sostanza è quello che hai dettagliatamente in maniera corretta detto. Purtroppo all'inizio c'è stato un po' di confusione, perché si pensava, che sai poi tutto il momento non era dei migliori, quindi eravamo tutti presi anche da tanta confusione, che fosse il banco, ma c'è uno veniva in banca, dammi 25 mila euro, poi no, non funzionava così giustamente, perché poi sono 25 mila euro che vanno restituiti, chiaramente vanno restituiti con un tasso di favore, perché c'è una garanzia dello Stato che le banche la mettono al riparo da default, che chiaramente non ci devono essere, ma che nella grande massa, nei grandi numeri, statisticamente probabilmente qualcosa capiterà, che qualcuno non è in grado di rimborsare, però la cosa importante per gli istituti di credito è che c'è la garanzia del medio credito centrale al 100%, e qua è stato un deallungimirante anche del direttore generale di MCC e di tutti i funzionali del medio credito centrale, che poi non è che si fermava solo i 25 mila euro, si è steso anche delle garanzie importanti per importi più importanti che sono andati a favore di tutte le imprese, soprattutto anche quelle che in un momento così particolare hanno continuato a investire, perché vi assicuro che a parte lo smarrimento iniziale, le aziende hanno continuato a fare il loro mestiere, anzi con questo con soddisfazione dico che finalmente si è visto anche una grande responsabilità da parte degli imprenditori, e sembra che sia stata anche ripagata, perché poi questo temuto calo di fatturati non ci sono stati, anche se poi questa seconda ondata, adesso non sappiamo poi quali saranno veramente gli effetti sull'economia reale, però diciamo che ad oggi l'imprenditoria e soprattutto le banche sono state vicine, quindi non parlo di banca di peso, parlo in generale del mondo bancario che è stato veramente pronto, ha reagito bene, quindi diciamo che questa volta in primis è sempre stato il mondo sanitario, che dobbiamo veramente ringraziare dai medici e tutti i loro collaboratori, ma gli istituti di credito hanno avuto un ruolo fondamentale nell'assistere la cittadinanza. Hai in parte anticipato, ma non del tutto, una domanda che ti volevo fare, perché questa è proprio focalizzata sul nostro territorio, la domanda è come sta reagendo il comparto produttivo, commerciale e in qualche modo economico del nostro territorio a questa pandemia vista dal lato banca, dal vostro osservatorio? Allo strutturio come ti dicevo io ero molto preoccupato nei mesi di marzo, aprile, maggio il discorso degli insoluti, perché poi sai il termometro lo misuri quando poi la gente non paga, non ti pagano le ricevute, vanno in ritardo con il pagamento delle rate di mutuo, anche se sulle rate di mutuo qui un altro intervento importante che le banche ha fatto e anche la nostra non si è mai stata molto molto vicina facendo le sospensioni, quindi ad oggi abbiamo anche molti mutui che sono sospesi, quindi saranno in attesa di ripartire, questo è un fenomeno che poi va monitorato nel tempo perché potrebbe creare problemi nel medio e lungo termine, però direi che guardando i fatturati chiaramente ci sono stati dei cali, ma non cali così importanti come si potevano prevedere e ci sono stati anche dei settori che invece hanno avuto un trend di crescita molto importante e poi sono settori in merceologi che fanno parte del nostro tessuto economico che per gran parte è composto dal comparto del mobile, arredamenti e è chiaro che poi se andiamo a vedere un po' l'edilizia di qualcosina si è un po' fermata, ma diciamo che veniamo anche da un periodo di storici abbastanza particolari indipendentemente dal discorso della pandemia, anche se sull'edilizia potrebbe riprendere se viene sfruttato bene un qualcosa che stanno studiando che è il famoso 110% che dopo eventualmente possiamo approfondire se Paolo... Sì sì, è lì che volevo arrivare, anche perché il tempo corre velocissimo e gli argomenti comunque sono sempre tanti, perché ne abbiamo parlato tanto mezz'ora fa con Paolo Moroni di Estra Prometeo. Il 110% sicuramente è un'iniezione potente di liquidità nei confronti delle aziende, delle imprese, delle imprese di costruzione, edilizia e di ristrutturazione, ma non solo, anche degli studi professionali che fanno gli studi sulla fattibilità, anche dei vari professionisti che devono attivare procedure eccetera e comunque tutto sommato con il supporto delle banche che ovviamente anche per loro è lavoro, per cui come si diceva con Paolo Moroni ovviamente non c'è, è vero che lo slogan è tutto gratis, però in realtà è un tutto gratis per l'utente finale, ma dentro ci sono tutte le competenze e le spese di tutti, per cui nel momento in cui entra in funzione questa dovrebbe contribuire a dare movimento se non altro. E dal lato banca come vi state preparando? C'è timore oppure c'è euforia? No, un'euforia purtroppo in questo momento non ce ne possiamo parlare, però è una cosa molto importante che è stato inserito questo 110%, che poi non c'è solo il 110%, perché tutte le agevolazioni fiscali che esistevano prima, adesso banalizzo anche i termini poi probabilmente i professionisti mi riprenderanno, il 65% per gli infissi, il 50% per le caldaie, quello lì è rimasto, però in questo momento c'è un nuovo attore nella catena di valore che porta a questa cessione del credito, che c'è gli istituti di credito, l'istituto di credito può essere parte attiva di tutto il processo acquistando il credito, chiaramente acquistando un credito, come dice giustamente Paolo, non è che è tutto gratis, la banca giustamente deve essere remunerata per il lavoro che fa, per la professionalità che ci mette, perché poi nel momento in cui c'è una banca che acquista il credito, diciamo che l'utilizzatore finale è tranquillo che quel credito lì gli viene acquisito da qualcuno, e chiaramente le banche qui siamo tutte pronte, noi come banca di peso siamo pronti sia per affrontare il mondo della famiglia, quindi acquistando direttamente il credito alla famiglia, oppure anche su aziende strutturate più grandi avendo fatto tramite per il gruppo bancario cooperativo lui crea una convenzione con Enigase Luce collegata al discorso di Harley Dickinson, che poi diciamo che sono i leader quasi mondiali del settore di questo mondo, anche della cessione, chiaramente Enigase Luce lo conosciamo tutti, ed è anche questa una sicurezza per l'utente finale. Per quanto riguarda la nostra banca, anche noi qui come dicevo siamo attrezzati e siamo pronti, siamo partiti, abbiamo la nostra funzione corporate, la direzione corporate che fa poi la dottoressa Malaventura, che diciamo che sia diventata un'esperta, prima diventata un'esperta per il medio di credito centrale, adesso diventata un'esperta anche per il 110, però siamo in grado di assistere per gran parte ed assolvere il compito che la banca ha in questo in particolare processo, che potrebbe dare, no potrebbe, secondo me darà sicuramente una spinta anche al settore delle diritte. Io credo, vedendola dal punto di vista del telespettatore o comunque del privato, che indirettamente quest'idea di dover restare a casa per forza, ha messo sotto gli occhi l'evidenza dell'importanza della casa. Magari prima non si aveva tempo, si andava, si usciva, si rientrava, si trascurava un po', adesso dopo mesi nei quali la necessità, all'inizio l'obbligo, poi diventa anche un piacere, perché poi alla fine ti accorgi che stare a casa si sta bene e ti accorgi però che la casa è meglio se è messa bene e allora da lì si innesca un meccanismo anche proprio di soddisfazione, per cui credo che questa azione la vedo proprio come un'azione che va a completare anche qualcosa che è stato innescato alle volte anche forse con poca consapevolezza da questa pandemia che ci ha obbligato a riconsiderare le case. Era famosa ed è stata anche criticata la grande coda al momento della ripertura davanti a Ikea perché la gente andava a comprare il mobiletto che si era accorto in due mesi che gli mancava o che non funzionava più. Qui siamo ancora più in una fase strutturale, cioè siamo a rimettere a posto in maniera molto importante e tra l'altro aumentando il valore degli immobili qualcosa che è tra le cose più preziosi che abbiamo, insomma una casa dove vivere e anche una casa nella quale abbiamo messo gran parte dei nostri soldi. Condivido al 100% come si dice, poi vorrei aggiungere un'altra osservazione, abbiamo riscoperto anche un'altra cosa, l'importanza del digitale, perché non sembra che questa cosa del digitale sia solo per le aziende oppure per i famosi ingegneri o persone, non gente comune oppure che hanno altri studi o abituati ad andare in banca direttamente, invece abbiamo riscoperto che è fondamentale anche l'utilizzo del bancomat, carte di credito, banca elettronica, che poi non è così complicata, noi abbiamo visto che gran parte della nostra clientela si è sin da subito adeguata a questa nuova metodologia di pagare anche i pagamenti, di affrontare un mondo diverso anche il mercato. Questo perché dico questo, perché per la banca è fondamentale, la banca non è che deve essere la banca che tu vai in banca per fare il versamento, la banca deve essere una banca di relazione, tanto più sia una banca locale dove tu puoi ancora dialogare con una persona, quindi prendiamoci tempo per andare in banca per parlare delle cose importanti della nostra vita che sono la scelta di un finanziamento per comprare la casa, per comprare un'auto, oppure molte volte è importantissimo anche per fare i nostri investimenti, perché è vero che il tondo è bello, adesso non si può fare dicendo una pubblicità, ma il tondo è bello se all'interno ci sono le persone, quindi ci deve essere il consumatore, ma ci deve essere anche una persona qua bancaria capace di darti delle giuste informazioni. Io ritengo che la banca di Pesaro sia una banca adatta in questo momento ad essere molto vicino a un territorio in espansione, un territorio vivace, perché viviamo in un territorio veramente vivace. Adesso, dopo gestito, questo non dipende da me, ma io dal mio punto, dal mio osservatorio economico, ritengo che abbiamo un territorio in cui si può ancora investire tanto e portare tanto a questa città che anche a livello internazionale comincia ad avere i suoi risvolti positivi. La conclusione della nostra trasmissione oggi è riservata al sindaco di Igabice, che però dovrebbe essere un collegamento, ma io non lo so ancora, per cui non so se ce l'abbiamo già, perché se ce l'abbiamo già salutiamo. Allora salutiamo il direttore di Banca di Pesaro, Paolo Benedetti, che è stato con noi e che ci ha raccontato delle cose che ci fanno star bene, perché devo dire la verità l'atteggiamento è positivo e propositivo e questo serve in questo momento, perché sinceramente è ovvio, è necessario avere tutte le informazioni del caso, sull'andamento della pandemia e tutto, però anche andare a escogitare qualche nota positiva in tutto questo contribuisce a rendere la giornata, se non altro, più equilibrata rispetto a quello che è la visione e ovviamente l'analisi e la spunta di tutte queste cifre che ci stanno probabilmente terrorizzando e dalle quali ci auguriamo di uscire il prima possibile. Io ti ringrazio come sempre per i tuoi grandi temi che tratti e la capacità di farci riflettere. Vorrei ringraziare anche Emanuela, che è la direttrice di TV Rossini, perché è stata veramente in grado di riportare una cosa importante su Pesaro, sulla televisione, perché non sono solo le radio, ma c'è la televisione importante e mi auguro che Emanuela continua a fare gli investimenti che sta facendo di Maggiara molto lungimirante e vedo che c'è dei collaboratori molto validi, come c'è dei collaboratori validi in banca, perché viene il direttore a parlare, ma se non c'è una squadra, non c'è un responsabile marketing, non c'è una divisione corporate, non ci sono le filiali, la banca non riesce a soddisfare al meglio e a servire al meglio il proprio territorio. Grazie. Grazie, grazie al direttore di Banca di Pesaro e adesso ci colleghiamo con il sindaco di Gabice, Domenico Pascuzzi. Eccolo, lo vediamo, qui stiamo raggiungendo proprio livelli eccessi, perché anche noi, come le grandi televisioni, ci colleghiamo via Skype con Gabice, che non è dall'altra parte del mondo propriamente, è dall'altra parte delle silicate, però, per cui in qualche modo è giustificato anche il collegamento digitale. Buongiorno sindaco. Buongiorno, mi sentite? Io sì, mi auguro anche i telespettatori, la mia voce arriva chiara? Arriva bene? Sì, 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 tutto a posto, prova riuscita, come direbbe qualcuno, cari amici vicini e lontani, buongiorno a tutti, ciao Paolo. Buongiorno, ciao sindaco. Allora, ci siamo lasciati, che era caldo, ci siamo lasciati con disco d'iva, me li sono anche segnati perché erano tante le cose che abbiamo fatto, la bandiera blu naturalmente e soprattutto il nuovo logo, il logo che è stato lanciato a metà estate, questo denominazione, questo lettering e questa denominazione di Gabice Maremonte e poi il tempo è andato avanti, l'estate si è conclusa, stamattina quando sono saliti in macchina erano 4 gradi, insomma è inverno, cosa sta succedendo anche lì a Gabice? Ci siamo lasciati in piena estate, dal mare d'estate siamo passati al mare d'inverno che sarà poi, che non è, oltre ad essere un titolo di una bellissima canzone di qualche anno fa, mi pare di Mia Martini, è anche il nostro leitmotiv del Natale 2020, un Natale ovvio condizionato dall'emergenza sanitaria per cui è chiaro che non potremo fare eventi pubblici all'aperto, ma abbiamo cercato comunque di creare un'atmosfera calda e accogliente per chi vorrà fare una bella passeggiata a Gabice, quindi abbiamo curato molto le luminarie, speriamo insomma che sia un Natale sereno. Naturalmente quando si hanno questi momenti di pausa forzata si può reagire in due modi, da una parte in qualche modo, come posso dire, quasi andare in letargo, dall'altra invece lavorare sulla preparazione fiduciosa di quello che verrà. Immagino conoscendo la personalità e l'attivismo del sindaco Pascuzzi che lui stia dalla parte di quelli che si preparano insomma e che stanno escogitando qualcosa che naturalmente è subordinato a un ritorno della normalità, però che va preparato sicuramente per tempo. Dico bene o mi sbaglio? No, 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 assolutamente dici bene, sai che noi marchignoli non ce ne stiamo con le mani in mano, quindi siamo sempre attivi, cerchiamo sempre di dare il massimo su tutti i fronti e stiamo lavorando. È chiaro che posso anticiparti, anzi è una news che do molto volentieri proprio che riguarda un po' quello che sarà il futuro di Gabbicemare. Sabato 28 novembre, quindi fra qualche giorno, alle ore 17.30, non potendo fare un incontro pubblico, faremo una diretta Facebook sul canale Facebook, naturalmente sui canali social anche mio e oltre a quelli del Comune, della presentazione del Mississippi. Sappiamo, ne abbiamo parlato già quest'estate che sarà un progetto altamente riqualificante per l'intera città, sveleremo il progetto finalmente sabato 28 alle ore 17.30, quindi collegatevi sulla pagina Facebook del Comune, perché sarà molto molto interessante scoprire cosa ci sarà, cosa sarà del nostro bel simbolo che è il Mississippi. Io ho in mente, e difficilmente potrebbe passarmi questa immagine, potrà passarmi questa immagine del checkpoint Charlie che era stato fatto in febbraio-marzo sul ponte tra Gabbicce e Cattolica, quello sbarramento invalicabile. Gabbicce è comunque la nostra frontiera, la frontiera della regione, la situazione adesso è molto diversa, però comunque come si sta dalle parti della frontiera in questo momento di restrizioni e di chiusure? Allora diciamo che nel bene e nel male c'è sempre un po' di sofferenza, soprattutto in questi momenti di misure restrittive. È chiaro che per fortuna non ci sono state le condizioni per avere il muro tra la Romagna e le Marche, per fortuna, anche perché il nostro territorio ha una promiscuità tale che si fa fatica a distinguere i confini. È chiaro che anche in questo momento soffriamo delle misure restrittive perché sappiamo che molti nostri operatori economici hanno clientela nella vicina cattolica e viceversa, quindi diventa un problema anche di mobilità. Mi dispiace che c'è stata una presa di posizione ad esempio sui parrucchieri ed estetiste con un'apertura della regione di qualche giorno fa, poi a causa, comunque su indicazione del prefetto di Ancona è stato cambiato il parere della regione, quindi oggi paradossalmente un comune piccolino è vero che ha servizi di parrucchieria ma non può ricevere ad esempio clientela della vicina cattolica o della vicina San Giovanni e viceversa. Questo è chiaro che si pone delle problematiche importanti, quindi sono queste le cose che ci preoccupano di più, mi auguro che ci possa essere un intervento, adesso oggi poveriggia ne parleremo con la prefettura, però è ovvio che ci si preoccupa purtroppo magari più dei cacciatori che dei parrucchieri. Lo dico senza troppa polemica, vorrei che fosse una sollecitazione per risolvere questo problema. Ci auguriamo di fare l'amplificatore a questa sollecitazione che noi da parte nostra condividiamo assolutamente. In chiusura, la reazione e l'atteggiamento e in qualche modo l'umore dei cittadini di Gabizia qual è? Allora, diciamo che c'è tanta pazienza, quindi c'è come al solito un grande senso di responsabilità, c'è per fortuna consapevolezza, si spera che si possa quantomeno avere una parziale apertura, c'è grande dinamismo perché comunque la gente non si rassegna, quindi anche quelle poche attività ancora aperte, mi riferisco soprattutto ai bar, ai ristoranti che con coraggio e li ringrazierò sempre, tengono aperte anche per fare soltanto l'asporto e la consegna a domicilio, tanto di cappello, quindi è chiaro che loro ce la stanno mettendo tutta, speriamo che possa presto vedersi un po' la luce alla fine di questo tunnel che è stato un incubo, quindi è stato un incubo per tutti, non solo dal punto di vista economico naturalmente, ma soprattutto dal punto di vista sanitario. Bene, allora abbiamo concluso, ringraziamo il sindaco Domenico Pascuzzi che è stato con noi in collegamento via Skype e lo aspettiamo qua in studio in una prossima occasione e ha noto che tutti gli ospiti di oggi comunque hanno dato una connotazione positiva a questo periodo che sicuramente non è un periodo facile ma che va approcciato sicuramente con una mentalità che se approcciata in questo modo potrà agevolare, a mio parere personale, ma mi auguro che possa essere anche quello dei telespettatori, agevolare l'uscita dal periodo essendo già in questo momento con un buon piede e un buon passo, questo è il mio pensiero. Io vi ringrazio, vi saluto, vi ringrazio dell'invito, vi saluto, ci vediamo presto, l'ultima più che informazione e consiglio, scaricate l'app Immuni perché andiamo a tracciare bene l'andamento del contagio, possiamo anche uscire il prima possibile da queste misure restrittive. Grazie a tutti, grazie Paolo per l'ottima iniziativa. Grazie mille al sindaco Di Gabice, l'app Immuni io l'ho scaricata tra i primi quando ancora non era attiva ed era solo un test, un beta test, mi comunica periodicamente appunto di essere entrato in contatto con tante persone e fortunatamente fino a questo momento non mi mette nessun segnale di allerta ma è fondamentale. Confermiamo l'invito del sindaco. Oggi a Casa Rossini sono stati con noi Paolo Moroni di Estraprometeo, Paolo Benedetti di Banca di Pesaro, Domenico Pascuzzi sindaco di Gabice e l'appuntamento con i telespettatori di Rossini TV per la prossima diretta è per venerdì ma naturalmente vedrete e potete vedere questa trasmissione nelle varie repliche sparse nel palinsesto e già per chi ci ha seguito attraverso il web e attraverso i social fra pochi minuti anche disponibile sulla pagina Facebook di Rossini TV. Grazie a tutti, buona giornata, buona permanenza all'ascolto e in visione dei nostri programmi. Grazie a tutti.